Sì, è eccezionale, guarda I see skies of blue, and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Ok, come si vede, per quando lo sgancio dietro, ok, adesso cerco ancora da andare più fino. Scusate, scusate. Ok, ok, ok. 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 Ecco il movimento di un stocco di tira, adesso vai. Vogliassi da far paura. Ok. Ok. Quindi dà tanta forza. Fa molto bene. Come se ne la facessi, trascinela molto in avanti e poi schiaccia la canna verso il basso. Come se ne la facessi, trascinela molto in avanti e poi schiaccia la canna verso il basso. Tutto bevettino, tutto decimino eh. Decimino, fa più fluido, meno strapponato. Ribalta la canna e scarica tutto come il radente sul laterale, devi fare. Solo depunta, devi toccare solo quando c'è la colla a canna in avanti. Perfetto, vai. Fiu. 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 Fiu.